Ciao a tutti e benvenuti nel momento mio dedicato alla palacanestra e soprattutto all'Unieuro, chiamato nella mente del corso. Subito un'altra partita, domenica, contro una squadra secondo me accreditata per arrivare tra le prime 6-7 del campionato, Verona. Ma Forlì si presenta a questa partita con molta più fiducia, molta più tensione agonistica giusta dopo la grande vittoria fatta con Cento. Sicuramente Cento ieri non ha rappresentato un grosso problema per Forlì, ma Forlì ha fatto una partita giusta dal primo secondo con atteggiamento aggressivo, intenso, soprattutto molto forti nell'uno contro uno, nel tenere l'uno contro uno, nel riempire l'aria sulle penetrazioni, ottime le difese sul pick and roll, concedendo qualcosa magari col palleggio al reset tiro, ma riempendo benissimo l'aria, quindi togliendo tutte le possibilità dei lunghi di rollare o di innescare scarichi per tirare da tre punti, e poi come poi avevo previsto, tanto campo aperto da poter sfruttare subito, cosa che hanno fatto benissimo senza sprecare palloni, e questa ha dato anche fiducia, poi per il proseguo della partita, in tutto quello che faceva in campo. Verona sicuramente al momento è una squadra di un alto spessore rispetto a Cento, una squadra che ha tantissima qualità individuale, giocatori capaci di costruirsi tiri dal palleggio, tanti giocatori bravi sul pick and roll, lunghi, che possono aprire benissimo il campo, perché possono giocare sia a sette metri che vicino canestro, è una squadra secondo me complicata, perché ha leadership in tanti giocatori, ha punti, ha talento, corrono bene in campo aperto, in difesa è una squadra solida che tiene fortissimo l'uno contro uno, questo fa sì che non innesca tanti aiuti, e quindi diventa poi difficile giocare contro di loro, soprattutto da fermi con tanti palleggi, quindi la palla di massimo dovrebbe laggiare spesso, appena prendi un vantaggio bisogna far partire la palla e giocare bene con le spaziature. In difesa possono difendere il pick and roll in vari modi, perché hanno lunghi che possono far cambio, far show, far contenimento, quindi sarà una partita anche di grandi letture immediate da parte dei giocatori di Forlì. Sostanzialmente i punti di forza sono questi, la qualità individuale, dove non bisogna mai abbassare la guardia, ricordiamo un po' di giocatori da Esposito, Ethan Esposito che è un 4 che può giocare dentro, fuori e prendere canestro, c'è Lorenzo Penna, c'è Udom, Cannon che è un lungo atipico che ha vinto tanti campionati, è un giocatore esperto, è un classico giocatore che alza il livello dei compagni di squadra sia in attacco che in difesa, c'è Palumbo che è un giocatore che veramente sembra che vada a un ritmo tutto suo, ma ha una comprensione del gioco molto alta. Proprio sulla comprensione del gioco è una squadra che ha tanta conoscenza, quindi è molto pericolosa, sarà una squadra che strada facendo, farà a mio modo di vedere molto bene. Contro di loro, a mio modo di vedere, ripeto, bisogna scegliere bene i tiri per togliere il campo aperto, magari rinunciare a qualche rimbalzo in attacco per riempire subito l'area dietro. Le scelte sul pick and roll che ha fatto Coach Martino contro Cento, secondo me si possono ripetere benissimo, perché io lascerei più tanti palleggiare se tiro che innescare aiuti, perché i loro lunghi bloccano velocissimi e rollano molto bene, sono coordinati quando ricevono la palla in corsa, finisce che per riempire troppo l'aria hanno tanti tiratori sugli scarichi, diventa veramente una coperta corta, quindi se io dovessi scegliere lascerei più il palleggiare se tiro dei loro piccoli, magari più soluzioni allo stesso giocatore per non mettere il ritmo agli altri. Si può correre bene perché è una squadra che tende comunque a riempire, andare forte al rimbalzo, ad essere aggressiva, quindi da rimbalzo si può correre sicuramente bene in contropiede, non tenere la palla ferma perché è importante contro una squadra che è molto forte l'uno contro uno riuscire a farli muovere, perché altrimenti riescono a riempire bene l'aria nel momento in cui c'è un palleggi in più. Quindi secondo me sarà una partita bellissima, intensa, dal primo all'ultimo secondo. Il punto di forza di Folli sicuramente è il pubblico, sicuramente è il campo dove questa squadra può far bene come ha fatto negli ultimi anni, ma l'impatto della panchina come è stata contro Cento, dove chiunque è entrato dalla panchina, è entrato con la faccia giusta, l'atteggiamento giusto ed è stato positivo, sui 40 minuti secondo me sarà determinante. Questa è la mia idea, ciao a tutti, alla prossima.